Per la Fensec, storica azienda di prodotti da forno di Nuoro insediata nella zona industriale di Prato Sardo, oggi è il giorno della conta di danni, quelli provocati rinote da un incendio partito da un macchinario destinato alla lievitazione dei prodotti e che ha innescato un rogo che in pochi minuti è diventato ingestibile dal personale presente in stabilimento e che ha richiesto l'intervento in forze dei vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro. I pompieri hanno impiegato oltre un'ora ad omare le fiamme che oltre ad aver danneggiato i macchinari hanno annerito l'intero locale invaso dal fumo e dalla polvere. Anche per questo nei prossimi giorni servirà un attento esame dei macchinari e delle strutture per capire con esattezza a quanto ammontino i danni e per comprendere i tempi per il riavvio della produzione, specie in un periodo come quello natalizio che rappresenta uno dei più proficui per un'azienda che si dedica alla produzione di brioche, pane speciale ma anche a panettoni. L'incendio di fatto blocca l'attività di un'azienda che nel corso degli anni aveva saputo conquistare importanti spazi di mercato. Una notizia che non ci voleva in un territorio come quello nuorese, già martoriato da crisi industriali che stanno animando la vita sociale, politica e sindacale degli ultimi tempi. L'auspicio è che la Fensec, che occupa 5 dipendenti, si riprenda al più presto nella consapevolezza che nell'attuale momento storico tutti i posti di lavoro vanno salvaguardati e difesi.